Spargi la semente Non postare sempre cose di altre persone Esprimete il vostro pensiero Voi non siete i pensieri degli altri Non siate monotoli Riempite di post che magari abbiamo già letto da qualche parte E' il vostro pensiero vivo di adesso quello che conta I pensieri dei saggi sono validi Ma è tempo di esprimere i propri Oppure di aggiungere considerazioni al pensiero del saggio Per far sapere chi siete e quale strada state percorrendo Raccontate le vostre incertezze, i vostri bisogni Senza temere di essere giudicati dei deboli Io, il più forte, sono anche il più debole Fra i due ci siete voi Fatemelo sapere come io lo faccio sapere Preparate dei documenti in cui vi raccontate Una specie di diario da lasciare ai posteri E agli amici del mondo virtuale Preferisco leggere di voi Che non conosco Che il pensiero Che il pensiero Di chi so Chi è Troppo facile Prendere dei testi da un libro E postarli Fate conoscere il pensiero Dei vostri amici E il vostro Affinché non vadano dimenticati E se proprio Volete essere fieri di voi Provate a fare dei video In modo Che si possa sentirne l'anima Attraverso la voce E la voce E il mezzo per farvi conoscere Che abbatte le barriere Che vi separano dai vostri simili E il vostro viso Che si esprime Il mezzo Per non scomparire come anima Pensateci Cosa rimarrà di voi Quando abbandonerete Questo piano di esistenza Uno scritto Un pensiero Un mi piace Quale motivo Vi fa nascondere al mondo Molti giovani Hanno bisogno di sapere Che i loro dubbi Sono anche i vostri Hanno bisogno di trovare La loro strada E la stanno cercando Anche qui Siate la fonte A cui tutti Possono attingere Ed ognuno Dissetterà il viandante Che incontra Sulla sua strada Diventate l'esempio Per chi vi riconosce E che da voi Trae insegnamenti reali E non soltanto teorici E non soltanto teorici Se vogliamo partecipare Al cambiamento Di questa società Non dobbiamo aspettare Che gli altri La cambino Ma dobbiamo essere noi Per primi Ad esporci Insegnando ai giovani Ad avere coraggio E a loro volta Per fare Della famiglia umana Una vera famiglia Come se si parlasse A tavola Insieme a tutti i componenti La famiglia Semplicemente Una famiglia allargata Che si occupa Moltissimo Di preparare i giovani Alla vita Alla consapevolezza Loro sono il futuro Dell'umanità Che cosa c'è Di più appagante Che sentirsi parte Attiva Di questo cambiamento